Buongiorno, da Michela Bagatella e dalla WebTV di Plenair. In casa Rimor molti segnali di cambiamento e fervore di ripresa, con nuovi modelli in listino e grafiche per gli esterni rinnovate. Prima innovazione nella scelta delle meccaniche, con Renault per le gambe di accesso, Ducato per la serie media europeo e Daily per le ammiraglie briga propulsione con doppia ruota posteriore. Punta di diamante della produzione resta la gamma media degli europeo, su Ducato, con tre mansardati e dieci semi integrali, di cui cinque con letto basculante elettrico. Tra questi ultimi il nuovo europeo 85P+. Rinnovata la grafica degli esterni, con raccordi cabina, carter di coda e carinatura alta delle sponde in preformato. Di dimensioni entro i 7 metri, l'85P ha interni spaziosi e confortevoli, con altezza utile di 1,90 m anche sotto il basculante. La dinetta a sei posti, offre cinque posti fronte marcia in viaggio, con tavolo traslabile per un facile movimento. La cucina ben attrezzata è al centro, con armadio a lato e locale toilette di fronte. Ampio e confortevole, è completamente in termo formato. Elevato lo standard di finitura di arredi e componenti, con pregevoli arredi in legno venato e dante chiare. Porta d'ingresso finestrata, zanzariera, porta oggetti vari e lampade a LED, completano un insieme di indubbia qualità. In sintesi un modello versatile, adatto alle coppie ma anche alle famiglie, grazie al nuovo letto basculante. Interni eleganti e confortevoli, l'ulteriore plus nel grande bagagliaio in coda.